Le motovedette della Guardia di Finanza scrutano la costa dal mare e sorvegliano spiagge lì di balneari dove la situazione è ancora ferma al palo. Da oggi c'è la possibilità di avviare il montaggio delle cabine ma a Salerno nessun lido ha colto la palla al balzo. Tutti in attesa di capire come ci si dovrà comportare, quali misure di sicurezza dovranno essere adottate, come dovrà essere rispettata la consegna del distanziamento sociale. Cabine, lettini, sdrai, ombrelloni, accesso ai servizi alla zona bar. Il regolamento non è ancora stato definito per tutto ciò che riguarda la vita all'interno degli stabilimenti balneari. Una vita che sarà, come quella di tutti i giorni, interessata da novità e cambiamenti e dunque sarà diversa da quella a cui tutti eravamo abituati. E per molti gestori resta ancora in sospeso l'interrogativo più importante. Conviene o meno riaprire? Il rispetto delle regole ridurrà indubbiamente gli incassi e molti vogliono capire bene le norme a cui bisognerà attenersi. L'estate si avvicina a grandi passi ed il ritardo accumulato sulla tabella di marcia consueta è già notevole. Molti gestori lo quantificano nell'ordine di un mese e per di più la mancanza di chiarezza sulle modalità dell'apertura fa sì che si perderà ancora un po' di tempo. Tra decreti d'ordinanza il tempo passa e l'estate è dietro l'angolo. La prossima settimana il quadro della situazione dovrebbe essere più chiaro e si dovrebbe cominciare la fase di montaggio delle cabine e di adeguamento delle strutture alle nuove normative.